È una problematica molto diffusa nelle regioni di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, attenzionata di estremo interesse per la locale procura. L'attività investigativa, che ha portato a due arresti, a due misure catarare e le arresti domiciliari, scaturisce, tra l'altro firmata dal GIP, dottoressa Elia, su richiesta dalla dottoressa Anna Chiara Fasano, che ha svolto attività di direzione dell'attività investigativa sotto il coordinamento del procuratore capo Pierpaolo Bruni, ha portato agli arresti domiciliari due fratelli di Amantea, di 48 e 41 anni. I reati di cui sono accusati sono intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro con l'aggravante della discriminazione raziale. Come mai non è stata arrestata anche la terza titolare dell'azienda? Le condotte cristallizzate durante l'attività investigativa dei militari della stazione di Amantea sono riferite soltanto ai due soggetti arrestati in data odierna. Erano loro che andavano a prelevare i migranti vicino al centro di accoglienza? I due fratelli di Amantea, di 48 e 41 anni, rispettivamente titolare dell'azienda agricola di Amantea, località Chiaie, il fratello invece impiegato lavoratore dipendente, andavano a recuperare i lavoratori poi impiegati in nero in prossimità del centro di accoglienza di Amantea. I lavoratori che venivano impiegati a punto e nero sono in prevalenza richiedenti asilo collocati nel centro di accoglienza di Amantea, anche lavoratori extracomunitari di nazionalità indiana e lavoratori comunitari di nazionalità rumena. Il prelevamento di questi lavoratori avveniva non proprio di fronte al centro di accoglienza, al fine di evitare di creare sospetti o indurre a sospetto eventuali passanti, ma avveniva nelle parallele a circa 200 metri di distanza. Nel centro di accoglienza non hanno colpa? No, assolutamente. Attualmente l'attività investigativa ha escluso ogni tipo di coinvolgimento. Poi tanto per colore della penne? Sì, allora praticamente, come dicevo, l'attività investigativa è partita dal monitoraggio attento durante un approfondito controllo del territorio dei militari della stazione Amantea di alcuni flussi di richiedenti asilo che si spostavano verso le aree rurali della città di Amantea. Questo ha determinato un interesse investigativo, poi sfociato nelle due odierne misure cautelari. L'aspetto più drammatico, oltre alle varie minacce di rimpatri forzati con millantando conoscenza all'interno delle forze dell'ordine, è stata appunto quella della discriminazione razziale per la determinazione del compenso giornaliero. I più bianchi prendevano, e ai più bianchi veniva corrisposta la somma di Euro 25, ai più neri, quindi ai centroafricani, la somma di Euro 25, ai più bianchi invece la somma di Euro 35 al giorno. Questa è una cosa nuova, diciamo? In questo territorio l'attività investigativa dei militari della compagnia di Paola, stazione Diamantea, ha permesso di riscontrare un fenomeno nuovo per la fascia tirrenica. La discriminazione razziale nel compenso, nel momento in cui nella medesima azienda agricola sono impiegati lavoratori di più nazionalità, è un elemento originale cristallizzato dai carabinieri della stazione Amantea. I nomi degli arrestati? Sono ristretti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, quindi sono due fratelli di Amantea di 48 e 41 anni.